Questa è una macchinetta per elettrolisi acquistata su Amazon a 6 euro quindi chi vuole posso dare il link di questo aggeggio l'elettrolisi è un fenomeno che in pratica immettendo dell'energia elettrica dentro l'acqua va a scomporre l'idrogeno e l'ossigeno che compongono l'acqua e fanno emergere quelli che sono gli altri elementi presenti nell'acqua noi adesso riempiremo un bicchiere d'acqua da rubinetto e poi prenderemo una bottiglia d'acqua qualsiasi faremo l'elettrolisi su entrambe i bicchieri e vedremo che cosa esce fuori questo è il bicchiere, quello di destra sarà il bicchiere di acqua del rubinetto mentre quello di sinistra sarà l'acqua della bottiglia che in questo caso è nel viso come vedete non c'è nulla nell'acqua in questo momento adesso andiamo ad attaccare la corrente ovviamente questo è un aggeggio che non devono usare i bambini è pericoloso attacchiamo i due bicchieri attacchiamo la corrente e inseriamo l'aggeggio nell'acqua in pratica adesso la corrente sta passando attraverso l'acqua e innesca una reazione chimica che va a scomporre gli elementi quindi ricordiamo che questo di destra è quello dell'acqua del rubinetto del comune di Torino mentre quello di sinistra è un'acqua minerale non viso quindi anche lì non di buona qualità secondo il prezzo adesso si lascia per qualche secondo lavorare lo strumento come vedete l'acqua di destra sta già assumendo una colorazione di palude colore nero lo lasciamo un po' lavorare così emergono bene tutti puoi vedere anche da sopra il rumore che fa si friggio si friggio si friggio fa una reazione chimica ovviamente il bicchiere dopo che abbiamo fatto questa cosa diventerà caldo quindi non bisogna toccarlo perché se no oggi si brucia ecco fai vedere qua sotto che cosa sta succedendo ok adesso spegniamo abbiamo fatto abbastanza e in il quindi stacchiamo anche la spina per sicurezza e andiamo a vedere che cosa succede metti un po' in adesso vedrete che cosa succederà avvicinando poi un magnete a questa melma nera allora se state su internet spiega quali sono i colori che può assumere l'acqua a secondo dei componenti che ci sono dentro allora quando l'acqua assume una colorazione gialla vuol dire che è normale questi sono i minerali che si trovano nell'acqua pura quindi quella che è potabile e bevibile quando diventa rossa dentro può esserci mercurio quando diventa bianca può esserci amianto quindi potrebbe essere potenzialmente cancerogena quando invece l'acqua diventa nera vuol dire che ci sono metalli pesanti dentro metalli pesanti sono mercurio, cadmio, piombo eccetera quindi avvicinando una calamita a questa melma nera vedete che si condensa tutto in un punto si vede? si non tantissimo si comunque si perché bisogna aspettare che si depositi sul fondo poi per farlo vedere bene se vuoi puoi mettere in pausa un attimo adesso sposto il magnete vedete che c'è una chiazza nera? si se invece adesso lo faccio qui no no si vede di brutto si vede vedete che si è sposto il magnete ecco questa è l'acqua potabile di Torino adesso ditemi se non bisogna andare a fare una denuncia a chi gestisce l'acquedotto noi viviamo tenta di spessarti di qua perché di qua è bianco lì si vede ancora meglio si 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 mi seguo vedi che si 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 questo è un magnete tra l'altro neanche tanto potente si quello delle tende se prendiamo un magnete un po' più potente se lo ciuccia tutto boh volevo farvelo sapere in modo che siete tutti a conoscenza di questa cosa e evitiate di bere questa acqua noi siamo zona Mirafiori